Va bene, allora intanto buonasera a tutti, devo dire che adesso al di là del fatto che ci conosciamo in molti, sono abbastanza, come dire, intanto sono onorato di fare questa cosa perché il fatto che da questo momento inizi questo ciclo dedicato a Franco Donatoni qui in un luogo molto particolare, c'è nel Museo del Novecento della città di Milano, mi sentite devo parlare più forte, può andare, comunque posso andare più in là, in un luogo molto particolare di Milano, una rassegna di questo genere dedicata a Franco Donatoni che per me è stato molto di più che non solo un grande compositore, non solo anche uno dei due maestri insieme a Sandro Gorli, ma insomma un po' una figura di riferimento personale, non solo musicale e dare inizio a questa cosa incaricato di parlare un po' di quello che si andrà a ascoltare nel corso di settimana, per me è un onore e anche un po' un'emozione, tant'è vero che ho degli appunti davanti, cosa che molto spesso non ho davanti a me. Che cosa è? La prima cosa che mi interessa porre come punto di partenza di un tragitto di questa ora che passeremo insieme è un piccolo riepilogo della traiettoria compositiva, dell'arco compositivo di Franco Donatoni, esattamente in quanto traiettoria, ma importante qua ci sono anche molti studenti di composizione, importante come traiettoria non soltanto musicale, ma come esempio fondamentale per quanto mi riguarda, forse è stato questo il grande insegnamento di Franco Donatoni, fondamentale sul piano personale, del modo di intendere il vivere o il concepire la propria esistenza, non penso che esista, o quantomeno nel XX secolo, che sia esistita una traiettoria, un arco biografico e culturale, compositivo così ricco, così problematico, così denso di cambiamenti come quello di Franco Donatoni. Se prendessimo in esame le altre figure principali delle avanguardie del secondo metà del Novecento, non avremmo davanti a noi la stessa densità e se volete usare un altro termine, la stessa drammaticità di percorso. Ecco, la parola su cui soffermerei molto è la drammaticità del percorso, mi spiego. Franco Donatoni è un compositore che si è trovato, peraltro era quello che diceva lui stesso, per circa 20 anni della sua vita, un po' a inseguire e, sempre come diceva lui, sempre a essere un po' in ritardo rispetto agli altri, cioè stiamo parlando di una delle figure capitali della seconda, ripeto, dell'avanguardia del secondo Novecento e però se pensiamo agli inizi, cioè ai suoi 22-23 anni, ai suoi anni di studio, mentre tutti gli altri più o meno coetanei erano già nella, come dire, nella chiesa di Darmstadt, erano già a Darmstadt nei corsi estivi della nuova musica da cui è nata tutta un'esperienza, un viaggio, viceversa Franco Donatoni studiava legalmente in un conservatorio italiano in maniera terribilmente o spaventosamente accademica, così lontana dalla sua parabola successiva, sentendosi quindi immediatamente in ritardo, mi piace pensare agli altri, a Stokhausen, Berio, Boulez, Nono, che parlano tra di loro a 20 anni, avendo di fianco Laibovic, Adorno, Messiaen e Franco Donatoni che, con rispetto parlando, quando va bene è con il De Brando Pizzetti all'Accademia di Santa Cecilia in Roma, cioè se ci pensiamo la cosa fa un po' paura e peraltro gli anni sono quelli, anzi un po' dopo, perché è nel 1953 l'anno di Santa Cecilia per quanto lo riguarda. Questo cosa vuol dire? Molti lo sanno, ma brevemente è bene ripercorrere la parabola, che le prime cose importanti di Franco nei primissimi anni 50 sono delle composizioni fortissimamente bartocchiane, quelle che gli causarono il soprannome di Donatoc sempre nei primi anni 50 e quelle però con cui vinse le prime cose importanti ed è questo il primo esempio molto importante, se leggesse un testo per me fondamentale, cioè la sua lunga intervista nel libro dell'IDT a lui dedicato, quando parla di quegli anni, quando parla di quei pezzi con cui vinse questo concorso di Radio Lussemburgo nel 52, da cui ebbe anche una commissione importante, la prima parola, la prima frase è una frase di disagio, sì ma mi accorgevo che stavo facendo la musica dei miei nonni, cioè la prima frase non è ho vinto un concorso internazionale, ma è sì ma da lì dovevo andarmene, perché così non si poteva più fare, si ritrova a Santa dei Ciglia da Pizzetti, ma si ritrova lì perché nel frattempo ho incontrato con Fredo Petrassi, che gli dice, la frase è citata in quel libro, quindi la si può dire, vabbè non ti interesserà molto studiare con Pizzetti, ma attraverso quell'ambiente potrai fare delle cose e poi io ti seguirò. L'incontro fondamentale successivo è quello con Bruno Maderna e qui c'è la tappa successiva del sì ma, cioè attraverso Bruno Maderna negli anni 53, 4, 5, Franco Donatoni incontra sulla sua strada quello che gli altri, non dico stessero lasciando, ma insomma quello che aveva già il suo bravo tragitto, cioè incontra la dotecafonia e il serialismo. Siamo in anni, se parliamo del 55, in cui Darmstadt, non erano certo più i primi anni, la scuola di Darmstadt è andata nel 46, i corsi sono fatti nel 46 e le cose importanti, fondamentali sono già del 51, 52, 53, ma soprattutto se leggete o se avete letto le frasi che Franco Donatoni dice della sua esperienza seriale di quegli anni, di ogni pezzo scritto in quegli anni gli appiccica delle parole spaventose, cioè il tal pezzo, il pezzo più brutto che abbia scritto nella mia vita, il tal pezzo, la brutta copia di una certa cosa fatta da un'altra, cioè la sua acquisizione del serialismo, della dotecafonia e del serialismo sono, avvengono perché sentiva di doverlo fare, sentiva di doverlo fare storicamente o culturalmente, come una specie quasi di cilicio da mettersi, cioè non c'era lo stesso tipo di militanza convinta di altri compositori intorno a lui, c'era una specie di sensazione di doverlo fare e se volete anche un po' una brava frustrazione di farlo sempre in ritardo, siamo alla seconda tappa di ritardo, cioè incomincia a scrivere i pezzi seriali nel 1955 quando gli altri incominciavano a tutto sommato a pensare ai passi successivi. Questo tipo di parabola incomincia a avvicinarsi, nei primi anni 60 c'è un'altra bella frase sua in quella lunga intervista, quando si dichiara tutto contento nel mi sembra 61, in quanto o se sbaglio di un anno, in questo momento se non è 61 sarà 62 ma poco cambia, quando succede che questo caos gli fa un grande complimento alla lettura di un pezzo per cembalo solo, a proposito di pezzi per l'assumento solo, chiedendogli una coppia e dicendogli che l'avrebbe voluta mostrare a Pierre Boulez, attenzione parliamo di coetanei, Stokhausen aveva un anno meno di Franco Donatoni, Boulez aveva due anni in più come Berio, se mai qualcuno in più ce l'aveva nono, cioè tre anni in più, che però a quell'età grossommo si è più o meno coetanei, 23, 25, 27 anni non è che cambi moltissimo, ancora in quel momento quindi nei primi anni 60 si tratta di un compositore che vede gli altri, i grandi andare avanti e lui che è lì che insegue in qualche modo, l'esperienza successiva, la più drammatica è sicuramente quella poscheggiana, quella di vedere sgretolare intorno a sé tutte le certezze seriali, cioè le ultime certezze della musica europea ed è lì che il segno incomincia a invertirsi, perché la maggior parte o molti dei compositori della prima generazione, come dire, si impantanano un po' nella rimessa in discussione violenta che Cage fa nel 58-59 rispetto alle certezze seriali, Cage non se la prende col serialismo, Cage se la prende con le certezze seriali, cioè con la certezza di aver raggiunto una nuova verità, Franco Donatoni legge questo passo, lo porta a sé, ma subito dopo c'è una reazione che è l'inizio, se volete, del grande Franco Donatoni, del sentire una violenta reazione in sé e anche una forte contraddizione rispetto a una prassi didattica nei conservatori, cioè da una parte gli veniva messo davanti su un piatto inevitabile del percorso dell'Occidente europeo la certezza che tutto fosse finito e cioè che le tecniche del comporre fossero finite, perché l'alea che giana, il dire se strago a sorte il risultato è lo stesso che non se uso le serie di tutto, appare essere il crollo definitivo dell'ultimo percorso coraggioso di ricostruzione di certezze tecniche che era nato con Schoenberg e che era arrivato fino a lì, ma qui saltano fuori le radici di colui che ha nel suo cuore, nella sua anima, un forte senso della storia, della tradizione, un forte senso delle tecniche del comporre europeo occidentale e che non può concepire di entrare in un conservatorio e di insegnare con tre punto secondo di Voa e poi andare a casa propria e avere soltanto l'alea per comporre, perché è una forma di schizofrenia totale, cioè là è totalmente casuale ciò che faccio, lì è totalmente normato e in una maniera che però sento artificioso, artificiale, tanto quanto non mi sento espresso da quel tipo di alea e nasce tutto un percorso che porta a quelle tecniche che molti qua dentro conoscono, ma insomma a delle tecniche che coniugano l'alea con il serialismo, cioè che trattano materiale come punto di partenza generativo dell'evento sonoro, dell'evento tecnico e poi dell'evento sonoro, che diventa quel portato tecnico forse inevitabile per tutta la musica europea. Franco Donatoni è, e per questo ce lo sentiamo tutti molto vicino, è la persona che ha saputo far tesoro nella sua vita delle sue difficoltà, gli altri di solito fanno tesoro delle loro facilità, la sua attitudine è, quell'attitudine come dire betoveniana o betovenian-bramsiana contrapposta alle attitudini mozartian-schumaniane, cioè l'attitudine a riconoscersi scarsamente inventivo, vero o falso che questo fosse, in parte forse davvero, ma in parte no, a fronte di personaggi come Bruno Maderna e Luciano Berio sicuramente di più facile invenzione musicale, ma che proprio da questo trae una capacità di riflessione sui percorsi del comporre e su che cosa vuole dire ricostruzione di una tecnica, di una tecnica comunicabile, questo è l'aggettivo successivo, che è un portato del tutto originale suo e che passa poi alle generazioni successive più o meno coscientemente, cioè le tecniche animatrici modernian-donatoniana, stava dicendo betoveniana, in qualche modo informano di sé tutta la musica europea successiva, coscienti o non coscienti che ne siano i compositori, perché a volte si è anche non coscienti di usare stilemi, modalità che provengono da lì. Il fatto della parola in più è la parola portare la coscienza e rendere comunicabile, perché l'altro cardine del percorso donatoniano, e qui poi mi fermerò per andare a parlare del rapporto con lo strumento solo, perché se no usciamo troppo dal seminato, la comunicabilità ha a che vedere con l'insegnare, nessun altro compositore di quella generazione ha avuto un rapporto così stretto, nutriente, fecondo, continuo con l'insegnamento come Franco Donatoni, non soltanto vissuto come esigenza per vivere, per avere uno stipendio, ho sempre notato, questo riguarda un mio punto di osservazione delle cose e non quello di Franco, se voi ci pensate più o meno tutti i compositori nella storia hanno avuto una seconda attività di fianco e in generale si potrà dire facilmente che è anche per vivere, ma non è soltanto quello, l'esperienza del comporre è un'esperienza fortemente introiettata, è un'esperienza di forte solitudine, cioè si è soli a casuccia propria davanti al proprio foglio di carta, oggi bisogna dire davanti al computer per molti. In generale tutte le altre esperienze professionali, ma sono anche di vita, sono estroflesse, vuole dire l'esecuzione musicale, la direzione, se volete anche la direzione artistica, l'insegnamento. Quasi tutti i compositori della sua generazione hanno scelto altro che non l'insegnamento come attività a fianco, se pensate a Bruno Maderna, grande direttore d'orchestra, Pierre Boulez, direttore artistico, diciamo divulgatore, propugnatore della musica, direttore, direttore d'orchestra, insomma un po' lo si può dire più o meno di tutti, l'unica persona che ha sempre insegnato e tra l'altro non disegnando la realtà normale, cioè quella dei conservatori, non il corso sulle stelle o soltanto nelle situazioni più nobili, è stato Franco Donatoni che è rimasto in un conservatorio fino a quando non è passato a Santa di Ciglia, peraltro è anche un po' mal in cuore se lo sono nato e passato a Santa di Ciglia. L'insegnabilità, la comunicabilità di queste tecniche hanno portato a un ulteriore grado di riflessione, perché un conto è pensare una cosa e farsela casuccia propria, un conto è doverla dire agli altri, per dirla agli altri deve essere molto più cosciente, perché dirla a se stessi è molto facile, usare le proprie tecniche è tutto sommato semplice, dirle, renderle qualche cosa che l'altro deve capire per poter anche riprodurre a un certo punto è molto più difficile, questo tipo di percorso è sicuramente soltanto di Franco Donatoni. Questo produce un cambio di segno che centrerà con i pezzi che ascoltiamo e di cui parliamo, che avviene in Franco nel corso degli anni 70, dovrei dire da metà degli anni 70 per quanto riguarda quello che poi ascolteremo dalla fine degli anni 70 in avanti. Qual è il cuore di questo cambio di segno? Sicuramente quello che succede, scusatemi, è che se fino a lì Franco Donatoni è un compositore all'inseguimento di altri che sono più avanti di lui, ripeto sto dicendo quello che diceva lui, quindi non sto dicendo nulla di negativo, da lì in avanti le cose un po' si invertono, attraverso questa codificazione di tecniche, questa comunicazione e soprattutto attraverso un continuo contatto con i giovani che gli altri non avevano allo stesso livello, Franco Donatoni in realtà apre dei territori in cui potrei dire che è lui ad essere poi inseguito dagli altri, non so se lui fosse qui, adesso userò una parola, se lui fosse qui non so che reazione avrebbe, ma io dovrei dire che per certi versi se ci intendiamo sul termine è Franco Donatoni che apre una vera stagione di postmoderno, me lo vedo qui davanti non tanto convinto di questa frase, se ci intendiamo sulla parola postmodernismo, cioè sul non pensare più la storia con una traiettoria retta che va soltanto in una direzione, bensì sulla storia che permette rivisitazione di materiali, tecniche, modalità, strutture formali etc., non più secondo una convinzione ideologica dell'andare solo da sinistra a destra, ma con un rapporto se volete anche più ludico, meno militante, più divertito e anche divertente, allora da questo punto se prendiamo il termine postmoderno in questo senso, credo che oggi ve lo posso dimostrare con molti ascolti, quindi mi sentirei di sostenere questa cosa anche con lui se ci fosse, peraltro credo che a un certo punto ne fosse abbastanza, non in termini di postmodernismo, in termini di scioltezza di rapporto con tecniche, stilemi e materiali, tutto questo è basato sul fatto che quando uno lavora tanto tanto nella sua vita, a un certo punto i frutti arrivano, questo sto guardando molto là in fondo dove ci sono tanti giovani compositori, e cioè attraverso il tanto lavoro, le tecniche vengono così tanto metabolizzate da essere ormai carne della propria carne e dall'essere un compositore a un certo punto libero apparentemente, un piccolissimo episodio che mi riguarda in uno degli ultimi anni, ahimè della sua vita, a casa sua da qualche parte che non mi ricordo, nominando la possibilità dell'utilizzo del computer almeno per prendere appunti, appunto, io ho nominato la parola appunti e mi ricordo Franco mi guardò come se avessi detto una parola in sanscrito e mi disse appunti e lì capì che erano parecchi anni che non ne prendeva praticamente più, perché le tecniche erano così metabolizzate che la manipolazione di un materiale avveniva secondo logiche assolutamente univoche, ma che non richiedevano il passaggio attraverso un appunto, perché erano semplicemente carne della sua carne, ma questo passa attraverso tonnellate di lavoro continuo, sempre riferendo a me, ma anche agli altri giovani compositori presenti. Passiamo un attimo, arriviamo all'uso dello strumento solo e intanto guardo anche l'orologio. Il rapporto con lo strumento solo, nella musica del secondo novecento, sigla molto bene, non sto parlando di Franco Donatone in questo momento, sto parlando in generale del rapporto con lo strumento solo, sigla molto bene il rapporto del compositore con il suono. Qual è la cartina di tornasole di questo? Se voi prendete in esame la produzione musicale delle generazioni dell'avanguardia, i nomi sono quelli che ho detto prima, possiamo aggiungere qualcuno che non l'ho detto, ma insomma sono tutti quelli che ho detto, posso ridirli, da Nono, Moderna, Berio, Bulesto, Kausen e poi posso andare avanti a Pusserra, ad altri magari meno noti. La produzione per strumento solo negli anni 50 è limitatissima, c'è una buona produzione pianistica, ma buona soltanto perché c'è Stokausen che scrive tanti Carvel Stuck e c'è Bules che fa le sue prima, seconda, terza sonata, ma se togliamo questi due negli anni 50 e se togliamo il pianoforte se volete, fino al 58 data Cardine per la sequenza di Berio, per Fautosolo 58-59 poi tra l'altro, la letteratura per strumento solo è limitatissima, motivazione, motivazione è molto evidente, tutta la concentrazione di quella generazione era sul pensiero compositivo, cioè sulla ristrutturazione di un pensiero compositivo e in qualche modo non interessato, è un po' forte dire così, non totalmente interessato al rapporto col suono, il rapporto col suono non era la prima cosa, dai mettiamola così, se no sembra che sto dicendo che nessuno pensasse al suono, ma di fatto certamente non era la prima cosa, la frase non è uno simono, non è una cosa strana, non sto dicendo che erano tutti stupidi, è perfettamente normale che in un momento in cui sta rinascendo un pensiero compositivo e una tecnica, la concentrazione sia lì, perché il problema sta lì, nel momento in cui era sentito come problema la ricostruzione di una tecnica univoca del comporre europeo, dopo la perita delle certezze tonali di un paio di generazioni prima e l'aver ritrovato delle contraddizioni nella dodecafonia classica, soprattutto quella schemberghiana, era naturale essere concentrati sulla tecnica compositiva e che il suono fosse una specie di residuo o di risultante del processo compositivo può un po' scandalizzare nel 2014 o anche già nel 2000, ma le cose andrebbero sempre contestualizzate nei momenti in cui sono successe, se no non funziona il discorso, mai valutare il passato con l'occhio di dopo, perché allora aspettiamoci che di noi dicano cose pessime tra i 50 anni, perché questo sempre deve succedere. Il rapporto con lo strumento solo è per forza il rapporto con il suono, lo strumento solo non è soltanto lo strumento solo, lo strumento solo è una fisiologia strumentale, ho fatto così perché c'è una chiara, un'amica violinista qua davanti, è la fisiologia dello strumento, è il timbro dello strumento, sono le possibilità, il registro di quello strumento, ma non solo, lo strumento solo ha a che vedere con la teatralità, perché si voglia o non si voglia se in scena c'è uno strumentista solo è teatro in sé e quindi fare i conti con la sua presenza fisica, con la sua tangibilità è inevitabile e questo non era sentito come essenziale negli anni 50 dell'Evanguardia. Qual è il primo grande personaggio che fa eccezione? Lo sappiamo tutti, visto che la rassegna fatta qua sempre dal divertimento d'assemblea riguardava costui, è Luciano Berio, che incomincia nel 58 la sua esplorazione lucida, precisa sullo strumento solo, per meglio dire sul rapporto tra il pensiero compositivo come era andato formandosi nel corso degli anni 50 e lo strumento solo, ma se pensate all'atteggiamento di Luciano Berio è veramente quello di chi decide di dire la parola dopo in maniera, come dire, Luciano Berio è colui che con una notevole certezza di sé, con un ego abbastanza notevole insomma, ritiene di poter essere lui a influire sulla realtà, il franco donatone di quegli anni era tutto sommato un donatone che subiva la realtà, faccio un pezzo seriale perché bisogna farlo in questi anni, ma ne parlerà sempre male poi dei pezzi seriali, ha cercato di impedire sempre l'esecuzione dei pezzi degli anni 50, anche dei pezzi pianistici degli anni 50, la domanda era perché si doveva fare quella musica lì? Credo che Marisella quando li ha registrati, insomma non gli importava nulla di quei pezzi, direi che non li voleva tutto sommato, ma poi li chiama i più brutti pezzi della mia vita, Luciano Berio è in grado viceversa di indirizzare il reale, di essere lui a dire dove bisogna andare, da cui il fatto, se ci pensate, Luciano Berio ha praticamente sempre scritto salvo per alcuni strumenti, ma in generale c'è un pezzo di Luciano Berio per ogni strumento, uno non due, lo so che ce ne sono due per carinetto e un po' di più per pianoforte, per pianoforte ce n'è sempre qualcuno in più, però per tutte le altre entità ce n'è sempre uno, è come dire il mio rapporto tra il pensiero compositivo e lo strumento solo, per quello strumento è questo qui e tutto sommato io sto dicendo quale può essere il rapporto oggi, anni 60, tra il pensiero compositivo e lo strumento solo, c'era un po' questa certezza, il fatto di inscrivere tutto ciò in un ciclo che si chiamano sequenze, è un corpus e sono altrettanti di rapporti e se ci pensate in omaggio a Luciano Berio, sono rapporti in cui ogni sequenza mette a fuoco un certo aspetto della fisiologia di quello strumento, cioè la sequenza per voce è così teatrale perché la voce è corpo e il corpo è teatro perché è gesto sulla scena evidentemente, lo stesso si potrebbe dire per tutti gli altri strumenti, ma insomma ogni volta in modo diverso, alcune sequenze sono un po' contro lo strumento, la sequenza per viola vuole un po' forzare l'immagine di viola come strumento dolce e caro e lo aggredisce un pochettino, la sequenza per violino è fortissimamente legata alla fisiologia dello strumento, parte da un là perché quel là si può fare su tre corde e lo vuole dare come un grande unisono, il rapporto di Franco Donatoni con lo strumento solo è completamente diverso, se prendete le sequenze di Berio nascono nel 58 e le scrive più o meno regolarmente fino alla fine, insomma, il rapporto di Franco Donatoni mi sono segnato un po' di numeri pensando anche alla rassegna viene fatta qua, posso sbagliare di uno o due perché ho contato, grosso modo in questa sede verranno fatti 35-36 pezzi per strumento solo, non vuole dire che sono tutti perché ad esempio guardando un amico organista il pezzo per organo qua non si poteva fare per evidenti motivi, mancherà credo qualche piccolo pezzo per pianoforte mi sembra, però grosso modo è la produzione nettamente, credo sia il 95% della produzione per strumento solo di Franco Donatoni, ma se io vado a guardare la distribuzione negli anni della sua produzione per strumento solo, allora capisco delle cose, se lo metto in relazione a quello che ho detto prima, un rapporto imbarazzato delle avanguardie con lo strumento solo è un rapporto a mano a mano riconciliato, a mano a mano che il pensiero compositivo ha riconquistato una plasticità di adesione col suono, come è successo via via negli anni 70, soprattutto 80-90. Non voglio guardare in basso, dico memoria, qui verrà suonato un solo pezzo per strumento solo degli anni 50, che però è una sanata per viola del 52, una specie di pre Donatoni, non so come dire, era ancora studente, forse ne avrebbe vietata l'esecuzione, non so, voglio ma dove siamo? Siamo in un ambiente in cui ci fu una strumentista precisa, cioè Mariolina De Robertis, una specie di sacerdotessa del Clavicembalo che rilanciò lo strumento in Italia per la quale tutti iscrissero e però sia quei quattro pezzi, tre pezzi negli anni 60, scusate per Cembalo e uno negli anni 70, sia il brano per pianoforte, cioè Stratto che è del 69, portano le tracce degli anni 60 compositivi, ad esempio hanno, soprattutto quelli per Cembalo spesso delle buone componenti di Alea, siamo in epoca poscheggiana e comunque non hanno una forte connotazione strumentale, ne hanno assai poca a dire la verità, cioè il rapporto con la fisiologia strumentale è assai limitato, non era quello il centro di interesse. Se prendiamo gli anni 70, sempre parlando di ciò che verrà suonato qui, che però è quasi tutto, ci sono 5 pezzi degli anni 70, ma se guardiamo meglio le date ci accorgiamo che il più vecchio è del 75 e che in realtà tutti gli altri sono dal 77 e soprattutto al 79, cioè anni 70 sì, ma verso la fine e lì cambia veramente qualche cosa, non tanto in dubbio che il pezzo per Cembalo è del 75, ma la grande stagione dei pezzi solistici di Franco Tonantoni scatta nel 77 con algo per chitarra, ma noi non partiremo da lì, ma dal primo ascolto che avverrà tra 3 o 4 minuti, così butto lì intanto che tra poco ascoltiamo, perché ho parlato tanto, partirà sicuramente con Nidi perché è un pezzo per Ottavino. Ed è da qui tra l'altro che incomincerò la mia dimostrazione sulla nozione di postmodernismo che però è modernità, secondo me, è la vera modernità in Franco Tonantoni. Che cosa dimostra tutto ciò? Il fatto che ce ne siano nulla negli anni 50, pochini di un certo tipo negli anni 60, ancora quasi nulla prima metà anni 70, poi invece aumentano lì e poi cosa succede? Non ho detto gli altri numeri, ne verranno eseguiti 11 iscritti negli anni 80 e 15 iscritti negli anni 90, tenete presente che negli ultimi anni 90, ahimè, le condizioni di salute di Franco Tonantoni peggiorarono sempre più, quindi malgrado questo 15 di questi pezzi sono degli anni 90 e credo che qualcosa manchi probabilmente rispetto agli anni 90, penso che per esempio il pezzo per Orgono è degli anni 90, però non era questo e poi aspettate, ho scritto CD numero 1 traccia numero 3, devo aver scritto, a memoria lo posso dire, CD numero 1 sarà la traccia numero 3, però aspettate ancora due minuti grazie, questo cosa vuol dire? Che a partire da quel momento che ho indicato come seconda parte fine anni 70, questa conquista di una naturalezza nel comporre, di un rapporto fisiologico col comporre, questo dialogo con lo strumento e con lo strumentista, lo conduce a un rapporto nutriente con il suono, il rapporto tra la tecnica compositiva e il suono suonato è un rapporto di reciproco nutrimento e di progressiva facilità, ci sarà una parola chiave, la butto lì ma tra poco ne parlerò di più, che è la parola invenzione, che è una parola che Franco ha sempre demonizzato prima, ma diventerà la parola chiave volesse o non volesse lui, volente o non volente, diventerà la parola chiave della sua produzione, c'è un'enorme capacità di invenzione a partire da quelle tecniche che si era faticosamente costruito nei decenni precedenti. Siccome ho parlato veramente tanto, Nidi, adesso ve lo preparò intero, c'è una prima caratteristica da dire subito, praticamente tutti i pezzi per strumento da solo da qui in avanti sono in due movimenti, in generale sembra sempre almeno per un po', questo varrebbe molto per il pezzo per chitarra Algo che è del 79, 77, anche per Ali, per Viola che è del 77 mi sembra anche lui, la prossima frase vale un po' meno per Nidi, di solito nel primo movimento, nei primi pezzi c'è una specie di adesione allo strumento un po' timida, il primo e i due movimenti non è ancora organologicamente legatissimo allo strumento, ma è ancora la tecnica compositiva applicata a quello strumento e il secondo brano molto più strumentale, in Nidi incomincia una via di mezzo, però adesso lo ascoltiamo, i commenti li facciamo dopo, tenete presente che si chiama Nidi, no datemi ancora 30 secondi prima di… se io leggo i titoli di pezzi per strumento solo, ma anche non per strumento solo, i donatoni, io ho sempre detto che lui poteva fare quello che dava i nomi alle Fiat, perché se avete pensato le Fiat sono sempre bisillabi, ritmo uno, Duna, Panda, etc., etc., i titoli sono Algo, Nidi, Ciglio, Ombra, Feria, Marche, Lame, Midi, Luci, Rima, Mari, Omar, sono sempre bisillabi in generale, come si dice, con l'accento sulla prima vuol dire piani, come si chiamano? Sì, cose del genere, ma i titoli finali Algo ad esempio non so che cosa volesse dire da dove derivasse, Nidi e signori cari, se parliamo di Ottavino, Nidi viene in mente l'uccellino e questo sarà il mio punto di partenza a parlare di postmodernismo, ascoltiamo tutto Nidi, sono 9 minuti, te lo dò occhio poi il fatto di accorciarmi più tardi. Ascoltate bene, anche se è piano tutto, queste tre note, pipa pam, pipa pam, понятно ? Sì, pete fare 2 minuti, un ragazzo non so che non so, non soтовare, anche se è험ato non si può ascoltare più forte non si può ascoltare più forte non si può non si può ascoltare più forte non si può ascoltare più forte meglio non si può ascoltare più forte 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 grazie non si può ascoltare più forte 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 ma si può ascoltare più forte forte se si può ascoltare più forte non si può ascoltare più forte forte non si può ascoltare più forte non si può ascoltare più forte forte e su quelle corde più non si può ascoltare più forte 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 forte non si può ascoltare più forte non si può ascoltare più forte forte che si può ascoltare più forte 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 di questo genere inizia già fortemente da un'idea, non parte da una elaborazione di materiale che poi a poco a poco, no, non siamo più neanche nella regione di Nidi, qua l'idea del primo pezzo inizia fortissimamente, virgolette se non mi sparerebbe, tematico, cioè con un'idea fortissimamente chiara subito, qual è la parola che emerge? È la parola invenzione, cioè attraverso tutto quello che è successo essere in grado immediatamente di mettere in scena delle facciate, delle fisionomie fortissime, immediate, nel primo secondo. Il pre-lavoro, l'elaborazione di materiale non è più la prima pagina di partitura come è avvenuto in molto Donatoni, ma siamo già in una fase di figura nettissima e chiarissima e a quel punto dovrei dire una cosa in più rapidissima, qualsiasi pezzo si ascolti non solo per strumento solo, di Franco Donatoni, gli oggetti in gioco, cioè le articolazioni in gioco, i ritmi in gioco sono sempre molto semplici, cioè gli oggetti sono sempre gli stessi usati in modi infinitamente diversi e qui il riferimento, se ne parlava con Sandro Gorli l'altro giorno, è difficile non fare, non vi sembri azzardato, un riferimento a Mozart, cioè l'attitudine a essere enormemente inventivo all'interno di un lessico limitato, cioè pochi oggetti usati sempre in modo diverso, se ci pensate un'ottima definizione di Mozart che usa il basso albertino milioni di volte e gli altri fanno dormire, lui no, perché non si sa, però così è, non ha la varietà di figure che ha qualcuno vent'anni dopo, ma questo è, i modi sono sempre differenti. Questo vuol dire aver raggiunto a questo punto una certezza di capacità di invenzione musicale e questo è un secondo aspetto, la fiducia nell'invenzione è un superamento di quella mortificazione dell'invenzione predicata dal kegismo e dal post-kegismo, siamo ormai in un altro territorio e quale territorio si apre adesso, infatti questo è il terzo ascolto che andiamo a fare, sto facendo quello che tiene d'occhio l'orologio, quale altra parola devo nominare? La parola timbro, fino adesso le parole erano lo strumento, la fisiologia, le articolazioni, eccetera, la parola timbro, per chi ha studiato con Franco Donantoni la parola timbro è una parola molto pericolosa, perché il timbro era sempre stato visto come un abitino ben colorato, vuol dire se pensi molto al suono come colore, vuol dire che sei poco concentrato sul comporre, si portava dietro riferimenti ad altri compositori che non nomino perché c'è una telecamera, ma insomma che pensavano soprattutto al timbro e non ad altro e per cui era visto come una componente, insomma la sua antipatia per Ravelle era abbastanza nota, immotivata e ingiustificata finché si vuole, ma c'era. Il prossimo pezzo di cui propongo l'ascolto è Omar, che è per vibrafono solo, naturalmente in due movimenti, naturalmente con questa contrapposizione tra un primo movimento più ritmico, più marcato e un secondo iper morbido, ma facciamo una cosa, vi propongo anche qua l'ascolto dei due brandelli, un minuto e mezzo di qua, anzi dovrebbe essere un minuto e quaranta del primo movimento, mi ero segnato e un minuto circa del secondo movimento e poi ne parliamo, perché è dagli ascolti che è più facile parlarne, allora è sempre lo stesso CD, prima la traccia 2 e poi la traccia 3. Ascoltate le note risonanti. Ascoltate le note risonanti. c'è una distorsione che è ascoltate qua sono accordi maggiori e minori ok grazie la traccia dopo direttamente così commento entrambi le fine qui fa una cosa che se l'avessimo fatta noi gli allievi ci avrebbe sparato cioè l'uso del motore acceso del vibrato il vibrato c'è una distorsione che però va bene per forza di cose allora due osservazioni nel primo movimento a un certo punto al di là delle sezioni ritmiche così ci sono dei blocchi accordali col pedale del vibrafono quindi risonanti fortissimamente consonanti vuol dire accordi maggiori e minori è chiaro questa è quella cosa che lui parlava che lui definiva regressione di materiali quando qualcuno gli ha detto ma come questo uso delle consonanze lui ha risposto sì ma i processi sui compositivi sono gli stessi di prima e si tratta di una regressione di materiali e non di processi cioè il mio comporre è quello di prima applicato ai materiali che prima non avrei usato perché prima erano classificati come materiali non utilizzabili della musica in quanto sentiti come questa è una nozione di postmodern assoluta cioè la possibilità di riutilizzare materiali della storia secondo modalità differenti per cui suonano nuovi no no questo è Sandro Gorli peraltro non è più Franco Donatoni secondo nel secondo dei due movimenti inserire nel comporre la componente del timbro non sono accordi di vibrafono risonanti ma sono accordi non sono accordi ma sono arpeggio dire la verità ma insomma è il gusto della risonanza lasciare risuonare lo strumento vi sembrerà una cosa normale ma come dire è una concessione all'eufonia cioè al bel suono al ben suonare con tanto di vibrato del motore che mai Franco Donatoni avrebbe accettato su di sé e sugli altri alcuni anni prima questo vuol dire accettare di entrare in un territorio che è l'esplorazione timbrica che prima era sentito come un territorio come un orpello come un abitino colorato inutile inutile non adatto alla serietà del comporre le due cose il comporre il senso del suono si sono fuse evidentemente e arrivo perché sono le sette poi si dice in questi casi che si corre e si finisce prima di quando si dovrebbe finire è molto difficile sempre arrivare giusti senza sbagliare però sto pensando alle porte del museo che si chiudono allora sono un pochettino preoccupato di questo in ogni caso penso che di questo pezzo del vibrafono la cosa fosse veramente molto evidente cioè persino il confronto con Nidi che è soltanto ah non ho detto il pezzo del vibrafono dell'85 quindi sono stati solo sei anni dal pezzo per Ottavino non una vita intera ma se pensassimo a pezzi di inizio degli anni 70 e degli anni 60 non riconosceremmo lo stesso compositore più che altro soprattutto ripeto l'accettare la componente timbrica e l'esplorazione dei materiali della storia della musica utilizzati secondo modalità che sono le stesse del suo comporre precedente applicati a materiali differenti se volete è la decontestualizzazione di un materiale e questa è una piaccia o non piaccia Franco è una delle definizioni di postmodern cioè decontestualizzare un materiale non è che insista tanto ma attenzione il postmodernismo è una cosa che personalmente io detesto in un'accezione quella normalmente circolante ma questa è una riflessione sulla storia che proietta la storia in avanti che è una nuova definizione di modernità cioè è il senso della tradizione avere le radici nel passato prelevare e proiettare attraverso un'esperienza compositiva attraverso delle tecniche in avanti e aprire tutto un mondo di possibilità di figura gesto strutture formali di cui parlerò tra poco quello sì totalmente nuovo quello non è postmoderno quello è moderno cioè nuovo questo è importante cioè non è il postmodernismo è stato spesso visto come una negazione della modernità in questo caso è una nuova modernità dovrei dire in questo senso e se no sarei falso arrivo a un ultimo pezzo che vi propongo scelto un po' simbolicamente non potevo non toccare il pianoforte ma tra le varie possibilità sono stato a lungo in dubbio se scegliere Rima o se scegliere François Frelzionen ma per un certo motivo ho scelto le François Frelzionen che evidentemente sono troppo lunghe per essere ascoltate durano più di mezz'ora non so 35 minuti quindi certo se ne può fare un ascolto parziale ma si prestano a una riflessione finale molto importante se voi ascoltaste i pezzi del pianoforte non importa quelli degli anni 50 non gli piacevano non importa ma quelli degli anni tipo estratto del 69 ascoltate qualche cosa che potrebbe non essere il pianoforte cioè non c'è un rapporto con la fisiologia dello strumento pianistico se ascoltassimo Rima è per questo che non l'ho fatto risentiremmo i due movimenti un pochettino con lo stesso tipo di attitudine ad esempio di Clare o di Omar per cui ho pensato che si potesse andare in là ma e parlando di una cosa personale ben ricordo che quando andando a casa di Franco mi trovai di fronte al titolo François Verezionen e dopo dirò che questa cosa è successa due volte nella mia vita e mi ha sempre fregato io è rimasto un po' così rispetto alla parola variazioni adesso che sia in tedesco che sia in italiano poco importa ma come la comparsa di una forma storica in Franco Donatoni e la risposta fu semplicissima ma in fondo è quello che facciamo sempre di prendere un materiale musicale e di variarlo e trasformarlo questa volta gli ho dato direttamente quel titolo ma è quello che facciamo sempre l'altro episodio è più gustoso ricorda l'anno che fosse l'85 credo quando vidi a casa sua il titolo di questo pezzo per quindici strumenti che era tema che tema detto di Franco Donatoni era un po' sconvolgente e questa enorme capacità di gioco di parole faceva sì che quello era il primo pezzo dedicato all'ensemble antarcontemporain quindi il tempio della musica e a Pierre Boulez che l'aveva diretto quindi c'era un pizzico di ironia nel dedicare un pezzo che si chiama tema a Pierre Boulez ma anche la frase fu ma tema vuole anche dire paura e quindi no senza tema vuol dire senza paura e poiché era dedicato all'ensemble antarcontemporain si prendeva un po' in giro a Boulez dedicandogli un tema ma se ne aveva anche paura e si metteva insieme c'è un terzo elemento in quel titolo riferito a una presente ma insomma non importa che cosa vuol dire che cosa sono qui entra in scena l'ultima parola chiave che è l'ultimo riferimento che farò che è quello alle strutture formali alla forma come funziona fino a qui il comporre di Donatoni che è il famoso comporre a pannelli cioè prendo un materiale lo trasformo secondo un procedimento ne nasce una zona formale la considero un elemento a cui faccio attenzione ne leggo delle relazioni e ne faccio lo rileggo e lo faccio diventare la zona successiva che se volete è un procedere per variazioni chiamiamoli pure pannelli perché le chiamiamo così ma di fatto variazione o variazione sviluppo se volete essere più storici in questo caso la nozione è dichiaratamente questa ma facendo questa cosa c'è una paginetta scritta separatamente precedentemente che si chiama Afransoise una paginetta scritta dedicata su cui decide di fare una specie di serie di variazioni al quadrato e questo devo dire che è una cosa che ho sempre invidiato compositivamente perché la nozione signori giovani compositori è un'idea meravigliosa tenete presente che i due numeri chiave della vita di Donatoni erano il 7 e il 13 come sapevamo noi poveri allievi costretti a un corso di 49 giorni a Siena gli altri lo facevano di 20 perché 7 per 7 fa 49 ma 4 più 9 fa 13 però i 49 giorni poi ce li beccavamo noi su questo tema su questa pagina che è Afransoise lui fa che non c'è qua dentro lui fa una serie di 7 variazioni dopodiché ognuna di queste 7 variazioni diventa l'origine di 7 variazioni per così come un quadrato magico avete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ma 1, 1 primo, 1 secondo, 1 terzo, 1 quarto quindi ne derivano 7 serie di variazioni di 7 variazioni ciascuna che fa 49 che si possono leggere in tanti modi che io potrei leggere la variazione 1 nelle sue determinazioni oppure le 7 variazioni per così o posso isolare in tanti modi una di queste sequenze di variazioni che cosa succede in queste variazioni? siamo però qualcosa devo farvi ascoltare quindi quasi non parlo più siamo di fronte a una riconciliazione totale con lo strumento con cui è più difficile riconciliarsi perché il pianoforte è il portatore definitivo della storia della musica se c'è una cosa che affascina e impressiona delle fransoise variazioni che verranno eseguite qua da una ragazza a bell'occhio il giorno subito il primo concerto che è il giorno 19 non lo so 19? 19? 19 gennaio e che vi pregherei di ascoltare è una enorme capacità di invenzione strumentale sullo strumento perché sono 7x7 organismi di brevità estrema ognuno dura meno di un minuto ma ogni volta c'è una fisionomia quindi quella che vi proporrei molto rapidamente è di ascoltare quindi il cd e l'altro che ho dato un po' della traccia 5 la traccia 5 è la prima serie di 7 variazioni sono scritte un secondo ancora sono scritte nell'83 attenzione queste variazioni sono scritte nel corso della sua vita il concetto era che quando era in giro e non poteva andare avanti a fare il pezzo che stava facendo ne scriveva una l'ultima serie di variazioni sono scritte nel 96 quindi sono ben 13 anni di distanza e mi piacerebbe farvi sentire le prime 3-4 della prima serie le prime 3-4 dell'ultima serie perché la percezione di quanto è cambiato nel frattempo e di quanto è ancora più fisiologica più inventivo il rapporto con lo strumento è molto forte quindi l'inizio se si può della traccia 5 sono le prime 2-3 variazioni della prima serie 1983 sento già le chiavi come in conservatorio quando arriva ci sta facendo sapere il rapporto con lo strumento In questa sera si tratta di variazioni su scritture e si sente molto che sono variazioni dello stesso materiale, anche in questa sera si è molto Mozart, perché le prime variazioni sono molto riconoscibili come variazioni una dell'altra, si sta vicini al materiale base, vorrei arrivare almeno all'inizio della terza se ci riusciamo. Poi percepite un uso abbastanza ristretto, ad esempio, della tastiera, e un'invenzione sì, ma non estrema. Adesso passiamo direttamente, così ci salviamo la pelle, alla traccia 11, ed è la settima serie di variazioni, sono stati 13 anni, siamo nel 1996. Intanto, l'uso del pianoforte. Qui la figura è una vera propria idea tematica, è un'idea. Ascoltiamo almeno l'inizio della seconda variazione, dai. Questo negare nello scuro. Questa è la seconda. Ah no, questo è il film. Questo è il secondo. Questo è il pianoforte crevicembalistico ornamentale. Solo questo. Quasi una citazione. Eccetera. Ve ne lascio la curiosità, quindi se siete costretti a tornare a 19, è chiaro che la riconquista del rapporto con la fisiologia di strumento e di invenzione è qui ai massimi livelli. Grazie, perché se no ci chiudono dentro. Grazie. 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 Grazie.